Le piante sono un po' strane, non trovi? Vivono ma non si muovono. Possono essere sia piccole sia enormi e sono sempre più o meno verdi. Ma lo sai perché sono verdi? Le piante hanno le foglie di questo colore per poter fare la fotosintesi in modo da potersi nutrire di CO2. Praticamente mangiano aria. Che buona! E tu invece sai perché non si possono muovere? Le loro cellule sono circondate da spesse pareti cellulari, rendendole così molto robuste e permettendo la crescita anche alle piante molto grandi. Però questo le rende immobili. D'altra parte però, le piante non cessano mai di crescere. Possono sviluppare nuove parti in continuazione, in modo da adattarsi sempre a nuove situazioni. Sì, e ce n'è di più. La loro crescita si sviluppa dalla divisione cellulare a livello dei tessuti embrionali. E questi tessuti sono di cruciale importanza per la sopravvivenza delle piante durante periodi avversi come l'inverno. Pensa che questi tessuti si trovano in parti diverse delle piante, in base al tipo di pianta. Le possiamo trovare nelle gemme di alberi e arbusti, ma anche a livello del suolo, nelle piante erbacee. E alcune piante sopravvivano semplicemente come seme.